Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligori con mestizia e tristezza. Segnaliamo una grave perdita per il mondo della musica, un tremendo incidente, una triste storia che lascia senza fiato l'intero pianeta. Il mondo della musica è sotto shock e in primis Ronan Keating, cantante e showman per la grave perdita del fratello maggiore a 50 anni a seguito di un incidente d'auto ha perso la vita. Sairan Keating, le circostanze con cui è avvenuto il decesso sono davvero tristi. Sairan, 50 anni, venditore di auto, si stava recando a Swinford in Irlanda a vedere la partita di calcio del figlio che gioca per il Cork City quando improvvisamente c'è stato lo scontro che si è rivelato fatale a viaggiare insieme a Sairan anche la moglie che fortunatamente ne è uscita illesa ma purtroppo il destino per il fratello di Ronan Keating è stato avverso. Sairan Keating ha perso la vita a 50 anni e ovviamente a farci versare più di una lacrima c'è il fatto che si tratta di una storia in cui un padre amorevolmente si stava recando a vedere la partita del figlio non è mai giunto a destinazione ma Sairan Keating resterà per sempre non soltanto nel cuore del figlio ma nel cuore di tutti noi. Amici di YouTube io vi ringrazio per l'attenzione scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa mia digressione io vi rimando al prossimo video ciao a tutti